Ok, 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 dai, 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 rispondi. Pronto 911? Sono Paul, Paul Correy, dovete aiutarmi, dovete aiutarmi, io non riesco a respirare. Ok, signor Correy, mi dica dove si trova. Non lo so, mi hanno colpito la testa e sono svenuto, questa è l'ultima cosa che ricordo. Come è riuscito a chiamare? Cosa? No, no, per favore aspetti! Cosa? Aiuto, aiuto, aiuto! Oh, ma è una bucaiola! Qui c'è gente che lavora al giorno! Madonna, io non sono solo qui, è lì, signore, signore, sono chiuso qui dentro, aiuto, aiuto! Dai, consiglio, mettila dentro, segno! Via! Lui chi sono? Grazie, grazie, sta sopra, sotto. Pronto? C'è qualcuno? Mi far passare, cazzo! Mi sentite? Calmi, segnilo! Ehi, voi! Guarda, chi è qua? Mi sentite? Già, andiamo con gli andiamo a studiare i partiti, perché c'è chi lavora! Fermo, polizia! Cosa sta facendo? No, 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 è un film, è tutto finto, è una barra di film, finto! Sì, certo, è un film, come no! Grazie, grazie! Grazie, 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 grazie! Ci vogliono più fiori! Grazie, grazie, grazie!